Una presentazione Pino Silvestre, ora anche più forte, forti di natura. Pino Silvestre, amico mio. Stiamo preparando il Sanremo dei politici! Il Sanremo degli stedici! Dei politici! Ci saranno Berlusconi, Fini, D'Alema, Bottiglione, Bossi, Lapivetti e tantissimi altri! Li faremo cantare noi a Champagne! Li farà cantare Valeria Marini! Signorina, cambi film, sei la diva del momento! Il Sanremo dei politici! Sabato alle 20 e 40 su Canali Gingue Champagne! La Valle degli Orti apre la stagione delle sorprese con Piroflamme, le pirofile che passano dal frigorifero al forno. Puoi ritirarle nei negozi di casaligni segnalati e sono tue con tutti i prodotti. La Valle degli Orti! E tu sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Quante merendine mangia sto ragazzo? Anche il mio! Per questo è importante scegliere quelle giuste, come questa! Briose Ferrero, frutta e cereali. Tutta la semplicità di grano, cereali e marmellata di frutta. Briose Ferrero, nutre bene con la sua semplicità. Pralina, ricoperto, croccantino, cremino, fondente, senza zucchero. Lineurel e senza zucchero. A meno calorie del cioccolato. Ma che gusto avrà, Lineurel? Che gusto! Buono! Buonissimo! Eccezionale! E c'è anche Lineurel fondente. Finalmente una bella notizia! Lineurel, senza zucchero. Ciao, naso tappato! Lo so che è dura lavorare quando non respiri bene, però hai visto il pacchettino? Ti ho mandato Vixinex. In un attimo sentirai che sollievo. Amore, riguardati. Un bacio, la tua Gabri. Vixinex libera il naso subito e per 6-8 ore. È un medicinale a base di ossi metazzolina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Evitare l'uso prolungato. Ehi! Una merenda al latte. La mamma non sa che c'è anche una merenda di latte. Di latte? Certo, Galbi Bontalatte. Trovate Galbi Bontalatte. C'è l'80% di latte, buona frutta, calcio, proteine. Naturalmente senza conservanti. Buono! E Galbani! Ma lei è un angelo. Da oggi non solo merende al latte, ma Galbi. La buona merenda di latte. Sporco incrostato su superfici delicate. D-Cif. Dagli uomo, più e più prima colazione. Più vita alla colazione. Bart, detto bimbo, bisonte, giambo. Dico, cerchi di impressionare. I dance. Siete venuti per l'arruolamento? Ah, questa volta sono i poliziotti. I più super poliziotti. Vedo che lei sa dove mettere mani. Spirri veri, specialisti in piani segreti, alfabeti muti, cazzotti urbani. D'anonimo! Bob Spencer, Terence Hill. I due super piedi quasi piatti. Domenica 20 e 30, canale 5. Spizzero? No. Vuoi? Questo è spizzero. No, novi. Chi ha detto che il buon cioccolato è solo svizzero? Novi, alta qualità europea, prezzo europeo. Abbiamo testato l'efficacia di nuovo Mentorant con fluoro e bicarbonato di sodio, il dentifricio che neutralizza gli acidi, una delle cause principali della carie. Una sensazione mai provata. Mentorant, bicarbonato di sodio e fluoro, il nuovo modo di combattere la carie. Ecco cosa dicono tante donne al confronto tra un bucato quotidiano lavato con dinamo e uno lavato con un detersivo più caro. È un pulito meraviglioso. A me sembrano uguali. Pulitissimi? Dov'è la differenza? Ecco la principale differenza. Il prezzo. Nuovo dinamo costa meno. Ma allora perché spendere di più? Perché spendere di più? Scegli il nuovo dinamo. Non riesco proprio a capire. Sono cose che succedono. Ti giuro che è la prima volta. Sì, sì, non ti preoccupare. Mi sa che mi faccio una bella vacanza. Sì, ma Alpitour. Turna felice. Parvi, Alpitour. Tutto a posto? Alpitour. Splendido di Omsa. Gli uomini preferiscono le Omsa. L'auto sulla quale sto viaggiando con mio figlio ha una linea elegante e i sistemi di sicurezza più sofisticati. L'auto sulla quale stiamo viaggiando è una Ford Mondeo. Bellezza e forza interiore. Come vai, mio malato? Meglio. Hai primi segni di raffreddore o di influenza. Aspirina è effervescente con vitamina C. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Kinder, cereali e fette. Un Kinder cereali. Cioccolato. Grazie, ce l'ho anch'io. Ma nel mio c'è di più. Vedi? Certo. Tanto latte, orzo, riso, mais, frumento. Kinder cereali. Ricco di natura. Ricco di bontà. Tu pensi sempre a far ridere gli altri. Ma a te chi è che ti fa ridere? Sofficini, il sorriso che c'è in te. Devi andare gratis alle loro feste, battezzarli i nipoti, fare il giullare. Poi quando finalmente ti danno una trasmissione importante, sac, te l'ammazzano con i raccomandati. Tutto, tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui retroscena della manifestazione canora più famosa d'Italia vi verrà svelato per la prima volta in tv da Pippo Franco, Pamela Prati, Leo Bonnotta, Valeria Marini in una passerella di gole ruggenti. Diretta da Pierre Francesco Pingitore. Lunedì 20 e 40, canale 5. Ciao Chiara, ma tu sei golosa? Sì, non di tutto però. Cioè? Io vado matta per duplo. È buono, non mi appesantisce. E io mi sento leggera, in forma. Duplo nocciolato leggero. Mio maestro diceva, se vuoi essere felice un'ora, scegliti una donna. Se vuoi essere felice un anno, scegliti un amico. Se vuoi essere felice a lungo, vivi in armonia con natura. Yogurt Yomo. Con ginseng, radice di antiche virtù. Yogurt Yomo e stratti naturali. Segui la vita in armonia. Da Wilkinson, Protector. Un rasoio così affilato da doverlo tenere dietro le sbarre. Grazie alla sua esclusiva griglia protettiva, la rasatura è più che sicura. Protector. Una rasatura profonda, con tutta la protezione che cerchi. Protector. Solo da Wilkinson. Kinder Fett al Latte è la merenda con tutta la freschezza del banco frigo. Perché è fatta con tanto latte. Kinder Fett al Latte è fatta con un prezioso alimento. Il più completo. Il latte fresco pastorizzato. Che fame! Anch'io! E quel suo gusto così fresco piace di più. C'è anche per noi? C'è per tutti. Kinder Fett al Latte Quella tempio che completa la merenda. Signora Guidi, perché ha cambiato per Dixan? Ma ha convinto mia cognata? Sera dai nonni. E Andrea. Prima raccogliere olive. Poi a tavola. Alla fine l'era tutta una macchia. Allora mia cognata mi dice Da retta a me. Usa Dixan. Perché Dixan è potenziato agli enzimi. Gli enzimi sciolgono le macchie. Così la forza lavante può darti un pulito da campione. Guardi. Guardi che pulito. Un pulito perfetto. Perché Dixan è il campione contro le macchie. Per un viso senza ombre e per essere bella da vicino ora anche le nuove strisce trasparenti Strap Crystal Viso. Strap. Linea depilatoria viso. Stiamo per incontrare il più celebre collezionista dei classici Disney. Un genio. Il primo ad avere Red e Toby la più attesa novità della stagione finalmente in videocassetta. Saremmo amici per sempre. Non è vero? Professore, lei che l'ha visto, com'è? Un classico. E con Red e Toby c'è anche il giocamici. Da quando il mio ragazzo allena i pulcini ogni sera uno shampoo e i suoi capelli si stavano indebolendo. Allora shampoo Pantena alla provitamina B il primo da sempre che nutre il capello dalla radice alla punta. E mi scopre più sano più forte a prova di un tiro da campione. Shampoo Pantena Provit per capelli così sani che splendono. 1995 nasce la nuova Esco interamente progettata dalla stessa equipe che ha costruito Mondeo il grande successo Ford. nuova Ford Esco un'altra Ford progettata e costruita con coscienza. potete vederla in cui si chiamava una grande foresta indiana. Tutto bene in città ma cosa c'è di strano? È solo un temporale. Tutto normale certo nessuno vede ma tutti sanno. Ma ti senti? Non riesci a leggermi nel pensiero come gli altri? Una nuova storia del maestro del brin un film che 25 milioni di americani hanno visto e premiato come capolavoro dell'anno di Stephen King. Non devi mai andare in città su. In prima tv Tommy Nockers martedì e mercoledì 20 e 40 canale 5 Ehi ti va qualcosa di dolce? Sì del cioccolato Pepe Pepe All'attacco Mani in alto cowboy ma non mangiate un po' troppi dolci Ma il loro Kinder Non dolce qualunque Sì Kinder cioccolato dentro tanto buon latte fuori la bontà del cioccolato Kinder cioccolato da sempre il cioccolato dei bambini E per i più grandi Kinder Maxi Maxi nel gusto Maxi nel latte Per un viso senza ombre strepa viso e bikini crema depilatori al miele e sei bella delicatamente strepa linea depilatoria viso Amore mio com'è farò voglio far l'amore con te allora vai 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 Amore compilation su cd e cassette cgd Anche i bianchi spariranno può anche darsi più rapidamente di tutte le altre tribù Sagra natura senza riserve Qualche mamma dice che ci sono tante merendine più o meno come Kinder Brioche basta rinunciare alle proteine del latte a un pan di spagna soffice a un nutrimento fidato insomma a Kinder Brioche forse potrei risparmiare ma perché togliere a mio figlio un pan di spagna lievitato naturalmente una doppia farcitura con buon latte un nutrimento importante per i ragazzi garantito da Kinder no, io non rinuncio alla qualità io mi fido di Kinder Brioche vicino agli altri l'alito fresco è importante Biggersoll, il chewing gum in confetti da gusto forte vi regala la sicurezza di un alito fresco e la freschezza di Biggersoll è anche senza zucchero tu che studi medicina perché un prodotto di igiene intima è tollerato da alcune donne e può dare irritazioni ad altre forse non è abbastanza delicato i nuovi test clinici di infasilintimo invece dimostrano la sua tollerabilità su soggetti diversi in soggetti sani non altera il pH in soggetti con irritazioni o predisposti ad allergie è comunque tollerato e trovi un gran senso di pulito e tanta delicatezza nuovo infasilintimo tanto è delicato tanto è tollerato molte delle cose che ami fare sono uno stress per la tua pelle non lasciarlo trasparire nuova da Nivea Visage la crema rigenerante il suo complesso le nanosfere risveglia le energie naturali della pelle per un viso radioso tutto il giorno nuova crema rigenerante alle nanosfere da Nivea Visage vita alla grande vita da Gagliardi Cocobulli la banda più simpatica della città le sorprese di Kinder Sorpresa Cocobulli siamo noi i più bulli giù in città viene anche tu viene anche tu dipenti a mano alla grande noi giochiamo e Gagliardi Cocobulli solo in Kinder Sorpresa una sorpresa e Gagliardi Cocobulli lo ha sempre da dire contro tutti tutto quello che ci può essere di negativo qualche pizzicotto bisogna proprio dargli alla Silvio Silvio un ottimo cuoco ma non si può andare avanti così Lavinia è una grande professionista ma sempre irascibile nervosa se si incavola sono guai e Gidio un marito come tanti però però bisogna combinarle qualcosa chi la fa l'aspetti alla stangata con Lorella Cuccherini ed Enzo Iacchetti da venerdì 3 marzo alle 20.40 su canale 5 la mia prossima donna non sarà un amore a prima vista no 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 zac colpito al cuore ma come conquistare la splendida mammina lui è il nuovo domestico e voilà ecco l'occasione auguri babysitter per amore e che ci vuole per uno come lui abile manager super efficiente una specie di mostro a sedurre lei sei licenziata madomar marie io non ti digerisco Martin Sheen Jacqueline Bisset mamma mi compri un papà venerdì 20.40 canale 5 l'ultima scoperta del Pons Institute non ha precedenti per una pelle più morbida e luminosa nuove capsule leviganti Pons con l'efficacia del Nutrium un esclusivo complesso a base di lipidi essenziali presenti nella pelle giovane e sana in pochi secondi una pelle liscia e vellotata nuove capsule leviganti Pons per informazioni telefona al numero verde wow arriva la cassetta finalmente si canta vai avanti ragazzi ok prova microfono mixer a posto pronti per cantare con me? sono il karaoke Brion Vega stereo e portatile per avermi non conta la fortuna basta raccogliere i punti il karaoke e tanti altri regali presto tuoi con i punti desideri mulino bianco scopri com'è più facile averli prendi l'albo io sto preparando eh cosa vi faccio? un bel salsa di quattro formaggio o un pesto alla genovese? veramente sono già fatte però è come se lo avessi fatti io che pasta volete? pertelloni? ravioli? oh non siamo mica in ristorante e dov'è il problema? c'ho la duetta cosa hai comprato? la spider ma quali spider? questo è uno dei regali di Buitoni fresco fa che regali? buono questo pesto ma come lo fa Diego? basilico olio grano pinoli aglio conservato in frigo hai capito? Buitoni star bene a tavola AREA DA NO 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 każdy god Everybody se a 데 quando pulivo con il solito detergente credevo di essere sicura del risultato ma rimanevano i batteri oggi c'è Ajax Gel 2 in 1 un detergente in gel molto sgrassante unito alla candeggina per igienizzare tutto e avere un pulito perfetto e senza batteri così mi sento sicura Ajax Gel 2 in 1 oggi anche al limone pulito profondo e igienizzato in un solo gesto Oggi c'è un nuovo amico da incontrare nuovo Ringo Chaldi il nuovo snack leggero e generoso l'unico che si divide per unire nuovo Ringo Chaldi da Pavesi Ringo Chaldi A chi di automobili se ne intende la nuova Opel Astra Station Wagon Climatica ha molto da offrire il climatizzatore compreso nel prezzo il fascino, la sicurezza e le straordinarie prestazioni della Station Wagon più ammirata in Italia Buttarsi con il parapendie camminare su di una corda con 300 metri di vuoto sotto buttarsi dalle rapide con il kayak roba da matti roba da professionisti no roba da VIP Gerry Scotti e Gabriella Carlucci spingono i VIP in imprese impossibili vado al massimo domenica 26 febbraio su canale 5 amici sono il vostro Enzo Iacchetti per le notizie dell'ultima ora ci colleghiamo direttamente con la CNN pronto? pronti CNN in collegamento eccoci qua signora Arena cosa c'entra lei con la CNN? eh sono io la CNN centrale notiziaria napoletana pronti al video citofono ma che razza di saco ma eh non vedo l'ora che venga a Milano la porto a mangiare la cascela anche io ci facciamo una bella mangiata di pesce signori Iacchetti sono contento c'è stato il pesce e che non è pesce? striscia la notizia un programma di Antonio Ricci nuova conduzione da lunedì 27 febbraio su canale 5 belli eh die quella cosa non sono in vendita ma è facile averli ma diglielo te sì sono i regali che non prendono i grandi marche che gliel'ho detto? sì quelli del corredo Cascerelli ah ma allora già lo sapeva ma chi gliel'ha detto? lui 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 sì sono stato io ma se l'immagina tutta quella roba a casa sua è mica robetta da niente eh che cotone che spugna e poi vera piuma con quel che costa ah ma se glielo ho detto che c'è chi glielo regala scusi eh gran premio grandi marche scegli il meglio ti regali il massimo come l'ha detto oggi scusi prego prego devo prendere il burro ah questo è buono di sola sola crema ma crema crema eh aspetti aspetti quasi quasi glielo faccio assaggiare è tutta crema di latte ma latte latte eh di signore mucche 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 dica dica com'è? buono ma buono buono eh burro giglio il burro burro ma burro burro eh pentole tvs le antiaderenti I can't stop loving you sveglia l'udito stuzzica la vista stimola l'olfatto intenerisce il tatto immaginatevi il gusto una nastrina calda a colazione il risveglio dei sensi chi mangia sano trova la natura I can't stop wanting you anche a Catania nuovo vernel vi sfida ad occhi chiusi pronta? certo oggi nuovo vernel è più cremoso ed ha un profumo che dura più a lungo che morbidezza e che buon profumo è il nuovo vernel e la differenza si sente morbidezza e freschezza imbattibile anche ad occhi chiusi Guido Cristina da bere? acqua naturale ma no Cristina non dirmi che rinunci così facilmente ai piaceri della vita beh io solo cose naturali e vabbè siamo diversi tu naturale e io frizzante allora? Ferrarelle solo Ferrarelle ti dà piacere e naturalità perché nasce fervescente naturale né liscia né gassata Ferrarelle l'unica così anche Ferrarelle partecipa alla promozione Gran Premio Grandi Marche il regalo il corredo Cacciarelli per chi non lo sapesse oggi è venerdì 17 siete superstiziosi? per quanto possiate sforzarvi non lo sarete mai quanto gli uomini e le donne di spettacolo ma non preoccupatevi Target vi racconterà tutto in un servizio che serve anche a scacciare il manocchio mentre sta uscendo nei cinema un film sui segreti dei quiz truccati noi vi raccontiamo alcune storie dove non c'è trucco e non c'è inganno ma soltanto molta costanza abbiamo intervistato il recordman dei quiz gente che ha vinto ogni genere di premi ce n'è perfino uno che ne ha vinti circa 2000 tutto sui CD-ROM la novità tecnologica che invaderà le nostre case tra poco a tagli vi apre lo schermo dagli uomo più e più mini pasto riempie la vita di leggerezza sta succedendo qualcosa a te e all'intera città nulla è strano guardate tutti i dominocchers tutto bene tutti sanno non puoi scappare tutti ma non ci non mi unirò mai a voi io non ti verrò e loro loro troppo tardi troppo tardi lo sanno la maestra del bribido una prima tv dove sei? con i dominocchers Tommy Nevers le creature del mondo martedì e mercoledì 20 e 40 cavallo 5 quando avevo voglia di uno snack sfizioso erano guai fortuna che oggi c'è speedy pizza la prima pizza che va anche nel torta pane speedy pizza amici in 5 minuti amici amici ringrazia la nuova speedy pizza rustica rustica al prosciutto e formaggio prosciutto e formaggio come si dice speedy pizza margherita è la nuovissima speedy pizza rustica amici in 5 minuti da pintus vivendo fuori tutti i giorni sentivo proprio il bisogno di un proteggi slip come il nuovo intervallo della Lines mi fa sentire più protetta e praticamente non lo sento intervallo della Lines è anatomico e ha un adesivo più lungo e più largo che aderisce completamente allo slip e ti muovi come vuoi intervallo della Lines ti fa sentire più protetta tutti i giorni e praticamente non lo senti intervallo in bustina anche nella confezione risparmio da 44 proteggi slip l'economia sta cambiando marcia Fiat accelera la ripresa e conferma il finanziamento senza precedenti fino a 25 milioni in due anni a interessi zero su 500 Panda Punto Tipo Tempra Croma Ulysse Coupé non è tutto un anticipo prima rata dopo 4 mesi 0% Fiat accelera la ripresa Alla distilleria Jack Daniels lanciare i tappi delle botti è un passatempo mentre aspettiamo che il nostro whisky invecchi E ci vogliono molti anni prima che Jack Daniels sia pronto Un sorso appena e sarete contenti anche voi del simpatico modo di far passare il tempo che abbiamo trovato Jack Daniels Tennessee Whisky Cremoso dal sapore non acido Ma di chi è questo yogurt? Mio Mio Dolce Yogurt mio Mio Mangio io Mio Voglio io Così buono Così dolce E' il yogurt Lo yogurt che piace ai bambini Mio E da oggi Dolce mio Il formaggio fresco A modo Mio Da Nestlé Oggi c'è un nuovo amico da incontrare Nuovo Ringo Chaldi Il nuovo snack leggero e generoso L'unico che si divide per unire Nuovo Ringo Chaldi Da Pavesi Per questo abbiamo creato A Vantage Le setole scalari raggiungono più facilmente i denti posteriori E insieme alle setole a B rimuovono più placca rispetto ad un tradizionale spazzolino E' il miglior spazzolino di Oral-B Oral-B Lo spazzolino più usato dai dentisti Caffè Kimbo Decaffeinato Tutti possono godersi un Kimbo Quel cavallo aveva bisogno di noi Decidemmo di seguirlo Il suo cavallino era in pericolo Non c'era tempo da perdere Non c'eravamo mai sentiti così uniti Cose uniche vere come Amaro Montenegro Amaro Montenegro Sapore vero A chi di automobili se ne intende la nuova Opel Astra Station Wagon Climatica ha molto da offrire Il climatizzatore compreso nel prezzo il fascino la sicurezza e le straordinarie prestazioni della Station Wagon più ammirata in Italia Tu pensi sempre a far ridere gli altri ma te chi è che ti fa ridere? Sofficini il sorriso che c'è in te Buonasera appena possibile dal Teatro Parioli con la nostra puntata del venerdì Campana A dopo Campana Questo programma è stato presentato da Gestione Straordinaria Signore e signori Buonasera direttamente dal Festival di Sanremo il pezzo vincente Ma è un pezzo di carta Sì ma può farvi vincere due miliardi Preparatevi a cantar Vittoria perché anche quest'anno Sanremo vi regala belle canzoni e tanti milioni Questa sì che è musica Cari amici vi ricordo che la compagnia del Bagaglino ci dà appuntamento domani sera alle 20 e 40 a Champagna di riverente e varietà satirico con Pippo Franco Leo Gullotta Oreste Leonello e Valeria Marini E ora dal Teatro Parioli trasmettiamo il Maurizio Costanzo Scioli Arrivederci Acquista un paio di Filodoro e partecipa al grande concorso Filodoro Pizzica la Fortuna che vi presenta Stiamo preparando il Sanremo dei politici il Sanremo degli stedici dei politici ci saranno Berlusconi Fini D'Alema Buttiglione Bossi Lapivetti e tantissimi altri li faremo cantare noi a Champagne li farà cantare Valeria Marini di Pizzare di Pizzare di Pizzare il Sanremo dei politici sabato alle 20 e 40 su Canali Jingue Showman è iniziata in ridicola la seconda guerra mondiale uomini e fatti documenti e testimonianze raccontate da Enzo Biagi tutta la seconda guerra mondiale per la prima volta anche in video con il primo fascicolo la prima videocassetta Fabri Editori Benpiere da quando uso Fitident la mia vita è più serena Fitident è un adesivo per protesi in odore insolubile e in sapore la sua azione è forte e dura più giorni Fitident la linea completa per la vostra protesi fate come me Fitident morsi senza rimorsi con la raccolta dei bollini della nuova promozione su carburanti e lubrificanti i gestori esso regalano quattro nuove grandi opere di Agostini professore un'altra stazione di servizio esso signorina piano 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 pieno pieno dagli esperti del Financial Times è nata Biblioteca di Financial Times una collana che analizza il sistema di impresa in modo chiaro e sintetico uno strumento immediato per il successo del proprio lavoro in edico la Biblioteca di Financial Times primo e secondo volume a sole 12 mila lire da Jackson Libri la strada non si segue si domina Peugeot 306 la sicurezza è la sua forza Peugeot 306 la strada è la sua preda oggi con un grande finanziamento fino a 18 milioni e 24 mesi a tasso zero il problema di Nenè è la carie le gengive di Giampiero che pensiero fino a poi con l'alitosi che nevrosi che nevrosi ma ecco qua ecco qua ecco qua c'è acqua fresca la tripla protezione occhi di ragazza eh certo la mia è una storia lunga questa è la storia le canzoni di Gianni Morandi in due compadisc è iniziata in edicola la seconda guerra mondiale uomini e fatti documenti e testimonianze raccontate da Enzo Biagi tutta la seconda guerra mondiale per la prima volta anche in video con il primo fascicolo la prima videocassetta fabbri editori dopo lo champagne fatevi un doppio whisky con quelli di gomma piuma si sono trasferiti nel vecchio far west si signore gomma piuma su canale 5 mi potessero ascoltettare la pace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti